Numero 10, nostro capitano, Francesco Pagliari! Lui, 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 è leggenda, è leggenda. Il conoscimento dalla società è serona del Dico Cento, un sei gol, segnalo. 206 gol superato a Roberto Pagliari. È leggenda. Grazie al capitano, se ne so che così, oggi, e gli consegna una marga per ricordare il suo regolo professionale di 700 cari, di 100 cari, la professionalista, uno e c'è, il topo capitano, Francesco Pagliari! Ecco a noi, il capitano della Roma, campione del mondo e sportivo più amato d'Italia, Francesco Totti! Capitano! Il capitano! Il papà di Francesco era un maestro esigente. A me, sinceramente, non è che faceva tanti complimenti. Mi diceva sempre, se la vi fa un sermone. Ancora oggi, eh? Non è che è cambiata. Totti si porta quasi in giro a tiro, Totti si è liberato! Ballamento! Francesco! Totti! Un gol pazzesco! Pazzesco per il 2-0! Totti viene ispirato dalle divinità del calcio e si inventa un capolavoro. Vince un contrasto sulla trequarti con Zemaria, poi punta l'area e quando vede Giulio Cesar fuori dai pali, si ingolosisce ed estrae il cucchiaio. Da lui tutti aspettano il colpo di Geni, l'invenzione capace di accendere uno staglio. Il tocco da artista senza il quale il calcio sarebbe solo uno sport, come tanti altri. Totti, palla sul sinistro, poi controlla con il destro, ancora sul sinistro, insiste, Totti, rete, strepitoso Totti! Grandissimo gol, legittima, questa è sultanza del 19enne della Roma, al 32esimo minuto la Roma serve il poker. Perché lui è la fantasia e il talento. L'istinto e l'istante, giusto due vocali differiscono, ma è raro vederli combinati insieme con tale e tanta originalità, con tale e tanta allegra frequenza. Prova Totti, il pallonetto, Totti! Palla di Franciano con Totti! Prestissimo! Totti ha perso dentro! Geniale il tocco di Totti! Quando un numero 10 riesce a fare questo, diventa il belliamino di ogni generazione di tifosi. 200 volte Francesco Totti! In Serie A! Con la maglia della Roma! Con la stessa maglia! Un giocatore straordinario, che non ha età, che ci entusiasma e ci sorprende tutte le volte. Allora Francesco, ripassiamo l'inglese, che ti serve e fondamentale per la tua carriera. Allora, quando ci vuole, ci vuole. Quando ci vuole, ci vuole. Bravo, vedi che hai studiato. Ma fammi il piacere. Esattamente. L'anima degli uomini è un immortacino. E se questo è il mondiale di Totti, questo è il momento. Francesco Totti io l'ho conosciuto da piccolo, nel senso che l'ho visto, cioè vivevo gli anni in cui mamma Fiorella lo portava da piccolino qui a Trigoria. L'unica era mia madre che mi stava sempre dietro, mi accompagnava a destra e a sinistra, perciò ma era una figura mia. Ha superato talmente tante disavventure, tanti infortuni, che giustamente le caviglie e i ginocchi hanno sofferto fuori. Rendo grazie a qualunque Dio ci sia, per la mia anima invincibile. Ma in faccia agli anni che minacciano, sono e sarò sempre imperturbato. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima. Lui, 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 è leggenda, è leggenda, è leggenda. Lui è leggenda, illumina l'oscurità. Lui, 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 è leggenda.